E si è spiaccato dal lavoro, palestra, due chiacchiere con l'allenatore sudato E l'ex compagno di scuola nerd che a differenza di te non si è mai spostato Non ha fatto figli che vanno a scuola e che vogliono tanto vedere un twilight Allora chiedi a nerd di fartene una copia, lui te la fa, torni a casa, divano, moglie, figliuoli, coca cola, popcorn, telecomando, play E sullo schermo invece è GAY PORN! GAY PORN! Ti apretti a premere top, non vorresti mai che i tuoi figli vedano di cose capaci e un uomo senza fio Con le palle di un altro sulle labbra e un altro ancora che lo cavalca Ma se l'hai visto tu allora forse anche tua moglie piange e ti guarda strano Ti chiedi perché il tuo amico nerd ti ha dato GAY PORN! 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 Grazie a tutti